Cosa di colorato però? Zaino nero, giacca nera, pantaloni neri, scarpe nere, perché sul bianco risalta. Tu puoi farti cazzo un po' invece? È definitiva la roba studiace. È tre porte? Ma che merda, ma che schifo. Ma che cazzo vuol dire? Facevano già le cinque porte, imbecille. Nel 2009 pensavo più ad andare a figa che caricarà la gente. Punto di partenza Monte Orsaro. Molto caldo, 7 gradi. Oggi sono i miei due compagni di merende. Almeno sai la strada o devo andare caldo? Di qua, a testa di cazzo. Non ho mai ancora fatto vedere il figlio. C'è dentro, dopo quando ci saranno meno 50 gradi, te lo faccio vedere dopo. Meno 50 in cima, perché c'è una escursione termica spaventosa. Tanto lo sai che poi io faccio i video, poi non li monto. Sì, appunto. Li faccio per così. Sì, sì. Ascolta, ma non lo vedi un po' ingrassato? No. Penso che sia a 69 kg adesso. Altezza 2,02 m. Le scarpe sono grosse. Sembra quei cani deformi che hanno le gambe più grandi della testa. Corai il Cusna. C'è già della gente su. Siamo ovviamente in ritardissimo perché Valerio ha perso dei guanti ed è dovuto tornare indietro. Stigati. Andiamo in chiaro le cose. Ho dovuto prestare la mia attrezzatura da pro. Gran giornata. Sono in manica corta perché c'è un caldo porco. Volai il cimone. Sei brutto. Sei bellissimo. Ho detto da te che non ho, eh. Ho messo i ramponi e ho messo anche freccia. Valerio ha i ramponcini che è già più su. Ecco le apuane, freccia. Voi chissà cos'è quella roba là giù in fondo. Andiamo praticamente arrivati. Fatiga. bella. È il 5 con la picca. Un altro? Allora cosa ne pensiamo di questa giornata? È tutto bellissimo, soprattutto te, tranne siamo a 2100 metri. due. No, la poca. Baglietta. È molto buono però. Diciamo perché per il riscaldamento globale non è una gran cosa oggi. Adesso proviamo a scendere per la cresta nord. Deve essere molto molto bella. Appennino regala sempre emozioni. che cazzo sei passato te, cretino. Messo lì? Merda. Non è che l'ho troppo in mano. Attenzione, E.B. Passaggio del fantasma. Guarda qua, guarda che mi infilazzo qua. Stai ancora filmando? Sì. Definitivo. Abbiamo fatto il guado con VHP di scarti, a rischio di potermia. Attenzione, secondo guado. I nostri eroi sono pronti alla morte. Attenzione, 7 metri di neve. Piccolo ponte di ghiaccio. Questa qui è morte certa. Io non sono temerario qui. Mamma mia, tegliella è temerario!